Dopo più di un anno che giochiamo a GTA con tastiere e mouse, quest'oggi per la prima volta proveremo a giocare con i controller E lo faremo con delle gare, quindi probabilmente impazzeremo La Gamer2Go ci ha mandato dei controller davvero fantastici Mettiamo il link in descrizione se ne volete comprare alcuni anche voi E quindi abbiamo deciso di provarli con delle gare su GTA Allora questo qui è il mio che utilizzerò per il computer che è davvero strabello Dopodiché abbiamo quello di Fere che, come potete immaginare, ha due teschi Una da questa parte, una da questa parte, ormai la conoscete, sapete come faccia E' bello perché è tamarro, i joystick devono essere stra tamarri come me Dopodiché ce ne hanno dato anche due per PlayStation 4 Questo è quello di Fere blu, super carino E dopodiché abbiamo il mio che è questo qui, che anche questo è molto molto carino Quindi davvero carini, se siete interessati andate in descrizione E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Fere Niki E oggi siamo qui con un nuovo episodio delle gare Da un po' che non ne portiamo, quindi ci è sembrato un'idea carina Soprattutto per testare i nuovi controller Oh, io per ora l'ho provato, mi trovo benissimo Ok Sono davvero stracomodi Però ho un po' di difficoltà a guidare Beh beh, ma perché non siamo abituati E certo, certo Allora, è dieci volte meglio Però ti ci devi abituare Quindi questo oggi credo che ci schianteremo tantissimo In ogni caso, ho duemila gare segnate da provare Ovviamente non faremo in tempo a provarle tutte Però ne abbiamo davvero tante interessanti E pensavo di partire con una gara che teoricamente viene svolta sott'acqua Perché l'ho letta, mi ha incuriosito E sono curioso di vedere se davvero è così Perché un'altra cosa che c'è da dire è che noi le gare non le proviamo Vogliamo essere totalmente sorpresi quando le proviamo Quindi potrebbero far schifo come essere davvero belle Nel caso tagliamo Nel caso tagliamo Si parte, Fere Andiamo, 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 andiamo Oh, sei partita meglio di me Dov'è l'acqua? Eh, non lo so, Fere Credo che ci dobbiamo entrare prima o poi Non credo che ci abbia bait cliccato Boom Siamo stati bait cliccati dalla mappa, Fere Non lo so, può essere Ma no, ma io ho visto pure l'immagine che stava sott'acqua E c'erano un sacco di cose Ma forse ci dobbiamo arrivare 73% di voto positivo Non può non esserci E lo spero Per ora continuiamo ad andare E vediamo se si trova Fere, ma per underwater intende sta cosa? Ma aspetta Mi sta prendendo in giro Ditemi che mi sta prendendo in giro Che secondo lui quello è andare sott'acqua Perché davvero Cerco chi ha creato la mappa E gli ne dico quattro Ma Sei arrivato sott'acqua o no? Stef, dimmi Sono in un'altra dimensione, Fere Cosa vuol dire che sei in un'altra dimensione? Che non so che cos'è questa cosa Sono finito sotto la mappa Oddio, ma che sta succedendo? Ma non lo so Ma che gara strana Ho fatto il checkpoint L'ho riavviato E sono finito sotto la mappa E sono sott'acqua Ok Ok Adesso si ragiona Adesso si ragiona E mi sono schiantato Mi sembra eco Mi sembra giusto Va bene così Però siamo davvero sott'acqua Sicuramente siamo sotto la mappa Sotto il laghetto Eh sì E quindi risulti Probabilmente ha fatto qualche sorta di bug Per farti finire sotto E quindi risulti sott'acqua Che figo Allora io non so Qual è il tasto Per impostare la prima persona Quando Si usa il controller E quindi Non riesco a fare le spirali Perché le spirali le faccio In In prima persona di solito Però In qualche modo ce l'ho fatta Penso di averti superato Steph È successa una cosa un po' strana Io ho fatto quello E poi E vabbè Io non l'ho azzeccato Al primo colpo E poi sono riuscita Fuori dalla mappa Quindi diciamo che Sott'acqua c'è solo quel pezzo Cioè io pensavo di Almeno L'ha fatto Eh ma ci sarei È stato Sì ma è stato sincero È stato comunque sincero Quindi È un bravo ragazzo Ma mi dovevi scrivere Vai in acqua per Dieci secondi Eh vabbè ma così Poi chi è che la clicca Guarda guarda vai ora Ok E adesso usci fuori Ciao Steph Dovresti apparire qui da qualche parte Ma Eccoti Ciao Steph Sono davanti a te Bello Bello E vado al traguardo Prima di te Non lo so eh Perché forse ho più velocità Dannazione niente 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 Mi dispiace Sì allora non era al massimo Non era al massimo Però comunque Ce la facciamo andare bene Ci stava Mi puoi spiegare Perché abbiamo questa cosa a fare Lo capirai presto Steph Lo capirai presto Che gara hai scelto Dimmi che gara hai scelto Allora Definir la gara è una cosa un po' Anzi forse un complimento Perché è strana Già che siamo con questo veicolo Dovresti intuire Che c'è qualcosa Che non va Steph E diciamo che Più una corsa a ostacoli Chiamiamola così Perché Di quello si tratta Mi devo spaventare Fede No no è carina Ok Carina Andiamo Allora Sì molto bene Ci sono ostacoli ovunque Non capisco niente Che è la strada corretta Da seguire Però Per adesso vado qua Sprint Se volo Palloni da calcio Sott'acqua È molto Tu vai tranquillo Mi sono bloccato con un'onda E adesso Adesso Io sono affiancato a te Che rotolo Eccomi Ah si su onda Bellissimo Ok No non ti ribaltare È vero Piano E tu me lo cita Troppo alte Eh sì Guardate qua Non correre troppo Steph Che qui mamma mia Ci spacchiamo la faccia Aiuto Ok Ok Continuiamo 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 Frenna un po' qui Che altrimenti ci schiantiamo Eccolo qua Almeno ti ho bloccato Guarda Steph Non ti volevo tamponare Guarda che velocità adesso Mamma mia Mamma mia Cerchi di fuoco Opla Devo fare strike Io lo faccio strike Non faccio problemi Guarda qua Però è bella Ti stai divertendo Ammettio No per niente Terribile Ascolta Steph Era votata benissimo Ho visto Vuol dire che piace a tanti Alty player Non so Ok Aspetta su YouTube Perché c'è l'acqua Perché c'è l'acqua Non mi si muove più Perché arrivano le onde Ma questa quella underwater Non quella che avevo fatto io Forse sì Mi ha bloccato Mi ha bloccato E ha detto che non posso più andare avanti Steph Sto prendendo troppa velocità E continua a cadere in acqua Ma perché vai troppo veloce Io non riesco ad andare Neanche a un passo dall'umaca Oh mamma mia Oh mamma mia Questo pezzo con le onde Oh mamma mia Ma come faccio Devo aspettare la bassa marea Eh sì 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 Io ho aspettato la bassa marea La luna piena Praticamente Mi ha fatto morire Che ho vinto E non potevo continuare nelle onde Lo so Aspetta aspetta Ci sono già passato Vado No 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 Non di nuovo Non di nuovo Non è possibile Non è possibile Non è possibile Fere Guarda io non ti farò mai più scegliere Una gara Allora questa In tutta la mia vita Ma l'ha dato lo stesso Perfetto Steph questa è la mia vendetta Per tutti gli istanti terribili Che mi ha fatto fare Dove devo andare Perché riesco a fare le cose Schiantandomi in acqua A caso Cioè sto andando avanti Di reset Rendiamoci conto E adesso Devo scalare Ma non ce la farà mai Aspetta Steph Però ti voglio raggiungere Devo capire dove sei È impossibile Non può farcela Non può E invece ce la fa Ma sono velocissimo Ma sono velocissimo Non esplodere Bravissimo Bravissimo Dove sto finendo Steph E qua da me Fere Oh mamma Oh mamma Oh mamma Aiuto E adesso E adesso devi atterrare Eccomi qua Dove sei ma sei vicino Sì sì Sono dietro di te Fere Sono qua Aspetta Non riesco a tirare Sono un attimino Eccomi qua Bene arrivato Ma dobbiamo andare dritti A dopo Ok Entriamo dentro un tubo Non ce la fa È lentissimo Che spettacolo Aia Che succede Eh c'è un posto che si chiude Mi sono lentissima Non riesco a fare la salita Aia Ce la posso fare Ve lo prometto Consolini Che prima o poi Questa gara finirà Non so tra quanti anni E quanti secoli Però prima o poi finirà Allora se io adesso Riesco a giocarmela bene Tipo che faccio così E schivo Bravissimo Tengo una velocità Almeno decente Andiamo almeno A 20 km orari Che è già Un bel lusso Continuiamo questo tubo Che è davvero fatto bene Mi piace Mi piace Mi piace E non so dove finiremo So solo che Sta macchinina Cerca di ribaltarsi Anche quando vado 20 all'ora Sì mamma mia Guarda È difficilissima Le onde Continuano a darmi fastidio Fere Non aggiungo altro Guarda No dai Cioè sono andato Talmente lento Non è possibile Non è possibile Steph come hai fatto A fare questa parte Scusami Eh basta andare dritti Non ci riesco Ok Perfetto Non era Molto difficile Con la parte dove devi passare In mezzo al tubo Capito Ho visto Allora ti prego Mareggiata Non mi rallentare Ti prego Se non riesco a schivare Questo bersaglio Dello stop Da quanto ogni volta Mi rallenta Vero lentissimo Ok Ci sono finalmente riuscito Doveva essere un pezzo semplice E invece no Allora Sono indecisa Se finire la gara Per non fartela finire Come diciamo Vendetta contro di te Ma no Steph Te l'ho detto Te la devi meritare Tutti gli istanti Terribili che mi hai fatto fare Adesso ti meriti sta gara Che poi ha un suo perché Dai Cioè avrei preferito Che magari mettessi un wake Un po' più Manovrabile Magari Avrebbe fatto decisamente comodo Se superi quello stop Hai finito la gara Ok Il problema è superarlo Il problema è superarlo È letale È letale Non sembra letale Ma lo è Io comunque l'ho terminata Così ti viene un countdown E hai pochissimo tempo per finire Vediamo Se ce la fai Io in 20 secondi Sono talmente lenta Che non riesco neanche a finire Vediamo Fere È una cosa contro il tempo Vado Devi scrivere lo stop Fere Sono in acqua E anche l'acqua Vado Vai Fere Stop in pieno È passata È passata 10 9 8 7 È troppo lenta 6 5 4 3 Sei una persona terribile Guarda Non lo dovevi fare Perché lo sapevi che la macchina era troppo lenta E non ce l'avrebbe fatta in quei pochi secondi Era una vendetta Così impari a farmi fare sta roba Adesso facciamo una gara normale Perché di normale ho capito che non c'è nulla Almeno mi faccio la mia bella esultanza E mi rilasso un po' Bellissima Questa gara si chiama Tron Ed è basata sulle serie di notte con credo luci fighissime E cose molto belle esteticamente Quindi godiamocela E divertiamoci Sembra già fighissimo all'inizio Vero? Ok vado a destra Perfetto Personata a sinistra Ma guarda che fighe tutte le lucetine Uuu No vabbè è stra bella È strana Vero? Non capisco neanche dove bisogna andare Tutto il tempo Io sto da tutrizia Quindi per ora prendo check point Occhio 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 Perfetto Ok 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 È una Ma che Guarda che secondo me ci hanno messo un mese a preparare sta mappa No è bella Ci hanno messo un mese È molto scenica Guarda le stelle Ok Andiamo 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 Continua a non capire verso dove dobbiamo girare Però sto andando abbastanza bene quindi va bene Ok 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 Un consolino ad avanti Questa volta sono due consolini Qualcuno sta intendo ad arrivare Dato che siamo giocando in un orario in cui c'è poca gente Quindi siamo abbastanza soli soliti Eh purtroppo sì però ci sta dai Per le prossime volte magari cercate di esserci Diventa sempre più figa Eh lo so lo so sto dietro di voi quindi lo vedo Ora? Ah bisogna schivare ok Stavo andando dritto pensando fosse una rampa Meno male che me ne sono accorto Ok 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 Oh cavolo ho capito allora di cosa stavi parlando Ci sei andata dritta Sì 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 per fortuna È perché sembrava è vero? Sembravano rampe Però no mi sa che la devi fare da giù Credo Sì 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 Oh questa curva Ok perfetto L'ho presa abbastanza bene Sono secondo Sono secondo Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vai 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 Occhio che quasi può cadere un sacco Questa zona è abbastanza pericolosa No ma anche prima c'era una zona in cui Se sbagli un attimo caschi di sotto Comunque col fatto che è notte Ci sono pezzi neri e pezzi blu Vero Il pezzo nero non lo vedi bene Ti dà fastidio agli occhi Esatto Ok sto vedendo lo stesso problema Uh questa l'ho presa benissimo Sto recuperando terreno Sto recuperando terreno Dimmi fare Mi sembrava un pezzo nero Invece era la notte Ma è andata così Ma te l'ho detto Si confondeva un sacco Eh però a un certo punto Non ci capisci più nulla Ok ci sono Lo so lo so lo so lo so Qua ce la stiamo giocando Fino all'ultimo respiro Fere Ok qua c'è qualcosa di pericoloso Qua c'è qualcosa di pericoloso Cosa sta succedendo Ho sentito rumori strani Che succede? Non lo so Sono successe delle cose molto strane Ok E sta peggiorando Fere Non è una buona cosa Ok finita la gara Ok ok Ci sono delle cose strane alla fine Ma davvero? Sì c'è una sorta di tunnel Tutto speed Però strettissimo Che non ci capisci nulla Mi ha messo un po' di paura Ok siete rimasti tu Tu e Mattia Fire Sei arrivata Fere Sei arrivata guarda eh Devi stare solo dritta Devi stare solo dritta Ma senti? Attento a non cadere Attento 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 Ma dai allo Aspetta Ce l'hai fatta lo stesso Non lo so Vale? Ma no dai All'ultimo mi rovini la gara Ma è perché Però allora non valeva andare lì sotto Allora Ah no me l'ha preso Perfetto Finita Era davvero strana eh Sì è stata strana Non lo so Però mi è piaciuta Te l'ho detto Carina Molto carina colorata Esteticamente ci ha messo Secondo un sacco di tempo A prepararla E ci stava a te matrona Avrei voluto anche io la moto Quella tutta illuminata Per fare le cose fighe E tamale Non so quanto costa Penso tanto Però dai ce la potremmo comprare Risparmiamo un po' E ce la compriamo pure noi Potrebbe essere figo Devo dire che per essere La prima volta Che giochiamo con i controller Siamo già andati abbastanza bene Quindi secondo me Se ci alleniamo un pochettino Nelle gare diventiamo davvero bravi Con i controller E riusciremo finalmente Ad essere dei super mega campioni Anche lì Lo spero Cioè non lo so Devo anche provare istante Anche perché non è che dipenda Da tutto dal joystick No no Fere 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 La tecnica migliore Che si può fare con gli istanti Io non potevo farla Perché non avevo un controller Devo provarla Ok Ve lo dico Ci proveremo La proverò E darò spettacolo Perché se ci stessi Se ci stessi Se ci stessi Se ci stessi E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perderevi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao